Domenica a Calcinelli di Colli al Metauro ci sarà la non edizione del Giro dei Tre Colli gara podistica che si sviluppa nel vecchio comune di Saltara parte da Calcinelli, arriva su fino al Palazzo del Bali per poi tornare per una distanza di 12 km e mezzo è una gara che ormai è entrata nel calendario delle manifestazioni podistiche Sì esatto, la manifestazione fa parte del circuito podistico WISP di Peser Urbino che quest'anno è giunto la 17esima edizione e sì, partecipanti da Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, insomma un po' da tutte le parti Ma chi saranno i più favoriti? Ancora non lo sappiamo perché comunque il grosso si chiuderà venerdì sera, le iscrizioni quindi ci aspettiamo sicuramente il vincitore della gara dello scorso anno e poi vedremo insomma è sempre un po' una sorpresa Per voi è un'organizzazione un po' impegnativa, siete tanti volontari per garantire la sicurezza sul percorso Siamo coccolati diciamo dal comune di Colli al Metauro, dal comando dei vigili urbani i carabinieri in congido e tutti i nostri volontari del nostro gruppo, l'Avis di Saltara e insomma le Proloco, ci siamo insomma Punto di ritrovo per questa giornata di festa, per chi vuol venire ad assistere alla gara Allora, Calcinelli, ore dalle ore 8, piazza Pio Franchi dei Cavalieri, al centro di Calcinelli insomma Grazie